Amiche ed amici di Montediprocita.com, buongiorno, siamo in un bar storico di Montediprocita, il Bar Pina. Non siamo a fuori rete, anche se stavolta c'è il divano, ma vi vogliamo comunicare, ovviamente già lo saprete, ma noi facciamo questo per non far dimenticare nessun evento di Montediprocita, vi vogliamo ricordare la ventunesima edizione del Memorial Valentino Schiano, perché il primo maggio in Italia è la festa dei lavoratori, ma a Montediprocita, oltre ad essere la festa dei lavoratori, è la festa del Memorial Valentino Schiano. Noi siamo qui con il figlio Enrico, che ci ha ospitato appunto nel bar storico di Montediprocita, allora caro Enrico, cosa si farà il primo maggio qui a Montediprocita? Cosa si farà? Penso che lo sanno un po' tutti a Montediprocita, perché ormai siamo alla ventunesima edizione di questa pedalata da mattina, il volo di Aquiloni nel pomeriggio, e i ragazzi aspettano con ansia ogni anno questa giornata, infatti iniziano un mese prima a chiedermi se anche quest'anno lo organizzeremo, e sì, io rispondo di sì, ma anche quest'anno ci sarà la pedalata, gli Aquiloni e un bel gelato in omaggio a tutti quanti, oltre a una bella maglietta. E allora, infatti dicevi dei ragazzi, quanti sono quelli che poi partecipano alla pedalata ecologica? Eh, noi abbiamo iniziato, le prime edizioni c'erano 20-30, adesso siamo arrivati a 150 ragazzi, a cui vanno aggiunti i genitori. Che partecipano insieme? Sì, che hanno molto piacere a venire insieme ai ragazzi a farsi anche loro una bella pedalata. E dopo la pedalata ecologica si arriva qui in volata e c'è ormai una tradizione, quella del gelato offerto dal barpino. Sì, dopo la pedalata ci sta il gelato e poi iniziano le volate dei ragazzi, con la collaborazione dell'associazione Mosaico, che ci dà una mano per questa Kermes, praticamente in batterie di 3-4 alla volta, fanno delle volate qua al Corso Umberto. E poi, con omaggio, sembra un canne di gelati. E che bello! Allora ricordiamo anche altri enti che hanno partecipato alla realizzazione al progetto del Memorial Valentino, come il comune di Monte di Procida, gli istituti scolastici, sia la Dante Alighieri che la Vespucci, e poi l'associazione Mosaico e l'associazione Colori Flegrei. Colori Flegrei con la madrina Maria Pia. Perfetto. Allora, dicevamo poi nel pomeriggio, c'è quello che è mai diventato davvero una passione per i montesi, ed è questo, l'Aquilone. Sì, 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 infatti abbiamo istituito una vera e propria scuola di Aquiloni, però quelli là fatti i classici, cioè l'Aquilone con la canna e con la colla di farina, di cui i nostri nonni sono dei maestri. E questi nonni vanno anche nelle scuole per insegnare ai ragazzi la costruzione di questo attrezzo. Ed è uno spettacolo vedere i nonni nei diversi negozi, sai che ne so qualcosa, nei diversi negozi andare a fare tutta la fornitura per la costruzione degli Aquiloni. E ti dico, sono attentissimi nella scelta del colore, perché vogliono che l'Aquilone, oltre che ovviamente a volare, sia bellissimo. E questo è un piacere, perché vedere il cielo colorato è sempre un grande spettacolo. Volevo ringraziare il signor Moscarella, che come ogni anno c'è omaggio dell'Aquilone bianco con la scritta barpina, anche se non sta tanto bene, però anche quest'anno ha voluto pensarci. E noi tutti penseremo a lui in quella giornata. Senti Enrico, un'ultimissima domanda per non farla troppo lunga per i nostri utenti. Io qui vedo delle trombe. Sono le famose trombe di Aldo Romeo, compianto, che ogni anno ci ha sempre dato una mano. E adesso stanno qua. E adesso lui guarderà da lassù sicuramente i nostri Aquiloni. Certamente, sicuramente stare con noi. E allora io giudo. Insieme a Valentino. Infatti, insieme a Valentino. Peraltro io vedevo anche una maglia qui sotto le trombe. Ho annusato qualcosa. Io so che a settembre c'è qualcosa in cantiere per quanto riguarda le biciclette. Stiamo cercando di organizzare la seconda edizione di quella che fu una gara storica di Valentino. La crono scalata da Acquamorta a Montegrillo, di cui partecipai anche io tanti anni fa. E insieme agli amici, di cui qua vediamo la maglietta, della ciclistica Flegrea, che praticamente comandati dal Timiliano di Bacoli, ci supporteranno in questa organizzazione. Beh, certamente è molto difficile per questioni di ordine pubblico, perché dobbiamo fermare il paese per un po' di tempo. Ma penso che riusciremo a settembre a portare avanti questa idea che fu di Valentino. Che fu di Valentino. Allora, noi ti ringraziamo davvero tanto, sei stato squisito nella tua cortesia. Enrico stava lavorando ai gelati per il primo maggio e noi l'abbiamo praticamente beccato qui e l'abbiamo portato sul divano. Ovviamente adesso noi andiamo a sorseggiare l'ottimo caffè del Barpina che ci sarà offerto dal nostro amico. Ve lo siete guadagnati, un grande caffè. Grazie. Grazie.